Lo so che tutti parlano di target, ma tu lo sai qual è il tuo vero target? Quando vado in azienda, una delle prime domande che faccio è questa. Qual è il tuo target? Le aziende non lo sanno. Escludiamo tutte quelle aziende che partono già con l'idea di produrre o di creare dei servizi per una entrimente categoria. Quello mettiamolo da parte. Per il resto le aziende pensano che il proprio target sia chiunque. Non è così. Più riesci a essere verticale, più riesci a individuare la tua nicchia di mercato e più in effetti sarai in grado di definire le strategie di comunicazione, il messaggio che devi dare, il linguaggio, il tipo di immagine e tutto quello che ne consegue. Altrimenti diventa una comunicazione vuota, inutile e infatti molto spesso non piace. Il target è fondamentale. Ricordatelo. Come si individua un target? Se non hai definito in partenza quello che è il tuo pubblico, è meglio che cominci a capire chi ti sta seguendo in questo momento. Quindi analizza le statistiche, ma soprattutto analizza, nel caso di un negozio per esempio, il tipo di persona che viene ad acquistare da te. Che potrebbe variare magari da quartiere a quartiere. Quindi non basarti su stereotipi in base alla tua tipologia merceologica o al tuo lavoro che fai o se fornisci i servizi. Io stesso per molto tempo non sapevo chi era il mio target. Nella comunicazione il target è molto ampio. In realtà, lavorando proprio a definire quello che è il pubblico, sono riuscito a individuare le due nicchie principali e dividere anche la mia attività. Di conseguenza ho diviso la comunicazione in due linguaggi diversi. Questo è il consiglio che ti voglio dare oggi. Analizza il target per poi fare le strategie di comunicazione. Senza target e strategie non puoi andare da nessuna parte. Quindi concentrati su questo. Il primo passo da fare o per ricreare la tua comunicazione o per partire proprio da zero è esattamente questo. Studia il target. Come sempre ricordati di mettere mi piace, di iscriverti al canale, commentare il video se ti è piaciuto, ma soprattutto condividilo con più persone possibile perché ti assicuro che molti non sanno di non avere il target. Ciao, alla prossima!